Buongiorno, ben ritrovati per questo primo appuntamento della giornata con l'informazione. Questo è Occhio ai giornali, che tutte le mattine alle 7.30 in diretta vi propone le notizie principali che appaiono e che sono riportate sui quotidiani questa mattina in edizione naturalmente locale. Il resto del Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico sono pronti, ma come sempre guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo per i prossimi tre giorni. Oggi è mercoledì 25 maggio, San Gregorio VII Papa, il sole è sorto alle 5.32 e tramonterà alle 20.38. Le previsioni del tempo sono abbastanza facili questa mattina perché sono tre giornate copia e incolla come diciamo spesso. Come vedete per oggi cielo sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti e temperature in aumento. Più o meno la stessa cosa per domani, sereno, poco nuvoloso, transito di lievi velature però negli interni e nella parte centrale della regione, nessuna precipitazione, temperature stazionarie e anche per venerdì come vedete cielo sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione e le temperature anche queste tendono a risalire. E allora questo è il tempo sbrigata questa incombenza molto velocemente, passiamo subito alle pagine dei giornali. Iniziamo naturalmente dal resto del Carlino che nella pagina di apertura dell'inserto di locale mette in grande evidenza con la fotonotizia il galà dei commercianti che c'è stata la serata conclusiva qualche giorno fa premiato a teatro il più votati con i tagliandi del Carlino. E poi in testa di pagina Cristiana riempie la piazza da sola, rivive nel set quell'amore così malato. Si parla del film sull'episodio di Lucia Annibali e il suo agguato all'acido, poi gli investigatori raccontano come sia arrivata la cattura di De Cristofaro e poi c'è una notizia di cronaca, investe, scooter e fugge, arrestato un 35enne. Adesso la vedremo nelle pagine del giornale. Poi nelle pagine seguenti del resto del Carlino si parla di vigili urbani, di polizia urbana che fa un blitz al mercato, sequestrati giubbotti e federe fuggifuggi di senegalesi che vendevano merce contraffatta. Comandante della municipale di Pesaro dice attento al rispetto delle regole, Gianni Galdenzi, non tollereremo mai l'abusivismo commerciale per il rispetto della legge dei commercianti regolari che pagano le tasse e ottemperano agli obblighi burocratici. Ancora nelle pagine del resto del Carlino c'era il richiamo, appunto nella pagina di apertura dell'inserto ed eccolo qui l'articolo, il killer del catamarano, vedete nella foto Anna Maria Currina, la vittima di questo killer che l'ha uccise in mezzo al mare per impossessarsi del suo catamarano e qui riportati un po' in retroscena della grande caccia, il capo della mobile e gli agenti svelano come è stato individuato, si è fatto un aggancio sul suo account di Facebook e poi si è restretto il campo, tutto qui nell'articolo del resto del Carlino per questa cattura e qui in basso lo vedete in una foto di una telecamera nella metropolitana di Lisbona, imperativo per lui era di passare il più inosservato possibile, però comunque viveva male ma con quattro telefoni cellulari aveva un rifugio a 30 km da Lisbona. Ora le pagine di Fano del resto del Carlino si aprono con l'incidente di questo ubriaco che investe e fugge un 17enne di Bellocchi in scooter, è stato preso, due testimoni assistono all'incidente e annotano la targa. Il 35enne fanese era la guida dell'auto pirata ed è successo tutto in via Galilei sabato sera. E poi di spalle qui un articolo che riguarda la carnevalesca, dimissioni in blocco, ormai è deciso, i 9 fedelissimi di Luciano Cecchini si dimetteranno in blocco dal direttivo, ormai la decisione è stata presa nella riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione che è fissato per venerdì alle 9, ormai è decisa questa linea, quindi carnevale al vetriolo, vedremo come finirà questa vicenda. In apertura la fotonotizia l'avete vista, era il Galà dei commercianti, due pagine ampie su questo evento che si è celebrato nel Teatro della Fortuna di Fano, le foto dei protagonisti, Galà dei commercianti, un'iniziativa anche supportata dal resto del Carlino. L'altra pagina che vi propongo di Fano, Fano San Benedettese, parliamo di calcio, sono stati revocati tutti i DASPO, un dietrofront della Questura, i sette tifosi ritenuti tutti senza colpe e appunto si riferiscono questi DASPO ai disordini in città dopo la partita dell'11 ottobre scorso e speriamo che questa linea morbida serva a ristabilire un po' come dice qui nell'occhiello, migliorino i rapporti tra appunto i tifosi e le forze dell'ordine. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, siamo a Pesaro, vi porto nella pagina di apertura, si parla di BS che si prende la Uniteam SPA con la proprietà del 100% delle azioni, il gruppo conquista un settore di nicchia ma strategico, si parla appunto di questa azienda che ha da poco festeggiato il suo patron Giancarlo Selci e quindi insomma gode di una ottima salute almeno da questo punto di vista. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico di Pesaro si parla di un progetto dell'architetto Mariotti, portici e verde e pavimentazione, ecco come sarà il nuovo corso. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico siamo a Fano, qui si parla in grande evidenza dell'ambito sociale, dell'ambito sociale che ha avuto una battuta d'arresto con la rinuncia di Maurizio Mandolini per la sua rinnovata fiducia a fine mandato, nella votazione effettuata non passa però la candidatura canaldeggiata da Seri dopo appunto questo pasticcio, ente capofila il comune di Fano è in minoranza, Borini è il coordinatore, uno schiaffo a Fano, questo il titolo nell'articolo di Lorenzo Furlani. Sette sindaci, che cosa è avvenuto? Votano per il professionista che viene da Iesi, quattro per Giombini che lavora a Fossombrone, mentre la candidatura di Fano era Claudia Gianmarchi, ma questa non è andata a buon fine. Ancora nelle pagine di Fano si parla di un giro della solidarietà, bambini malati di tumore, due padri in bicicletta naturalmente per non scordare a Fano, arriva la terza tappa del tragitto da Torino a Palermo che lega le famiglie colpite da questo immenso dolore. Poi siamo a Orciano con le pagine del Corriere Adriatico che parla della appunto voragine, il sequestro non fermerà i lavori, il sindaco annuncia per venerdì l'incontro in prefettura per l'accordo sul sostegno economico agli interventi. Andiamo a Senigallia, vi faccio vedere la pagina di apertura di questo inserto che riguarda la città di Senigallia, lungomare trasformato in una palestra per il fitness e questo è sicuramente piacevole per quanti passano tempo in spiaggia durante l'estate e poi anche qui problema espropi come a Fano, si parla di complanare, resta il nodo degli espropi. I proprietari attendono gli intennizi da otto anni e minacciano di bloccare a luglio l'inaugurazione, problemi diversi ma stesso tema. Siamo a Pesaro con il messaggero, vediamo la pagina di apertura dell'inserto locale, in testa si parla appunto del killer del Catamarano e nel messaggero si dice che l'estradizione è a rischio per il killer perché De Cristoforo può contare sul fatto che la legislazione del Portogallo non prevede l'ergastolo e quindi contro il trasferimento potrebbe opporre ricorso, anche qui le retroscena delle indagini, le tracce sul web e troverete i particolari anche in questo articolo del messaggero, la fotonotizia, ecco vedete il set della fiction su Lucia Annibali e poi la cronaca, l'ubriaco che sperò in auto un ragazzino in scooter e fugge. Ancora si parla di spiaggia, di mare, di ripascimenti che sono un po' in ritardo, a Pesaro il mare avanza ancora e i bagnini si tassano per riportare la sabbia, inghiottiti altri due metri di arenile e quindi domani arriva una riuspa pagata dai gestori per l'intervento pubblico che appunto sarebbe tardivo. Però l'estate incombe e nel piazzale della Libertà oltre alle nuove panchine della discordia arrivano anche i lampioni, si sta lavorando per arrivare al completo dell'arredo in tempo per l'inaugurazione di sabato mattina prossima. De Cristofaro, ecco anche qui i particolari, l'estradizione a rischio, vi spiegano i giornalisti del messaggero il perché, estradizione a rischio agli investigatori che l'hanno catturato, ha detto ma siete qui per me, la polizia anconetana è la mia maledizione, queste le sue parole. Parliamo anche di sanità, si parla anche di sanità nelle pagine del messaggero, regione su Marche Nord, manca la quadra anche in maggioranza. La mozione di Rapa, di Boris Rapa sulla valutazione dei costi e dei siti alternativi a Fosse Signore rinviata su richiesta del capogruppo democristiano Busilacchi. L'ultima pagina è questa di Fano dell'inserto del messaggero e si parla del parco, dai cani da caccia al parco fanno dividere anche gli assessori, i due assessori sono Carla Cecchetelli, una concessione temporanea, il progetto del polmone verde non si tocca e Mascarin, suo collega, dice atto ingenuo, quanto inopportuno voglio pensare ad un incidente, gli ambientalisti protestano, il comitato Bartolagi ha annullato la festa del 2 giugno al campo di aviazione, vedete nella foto l'assessore Carla Cecchetelli e poi ubriaco Sperona, ragazzino in scooter, anche qui riportata questa vicenda di cronaca, anche oppure qui in basso quella del ambito sociale che appunto vedeva il comune di Fano portare avanti la candidatura di Claudia Gianmarchi. Ultima pagina che vi ho fatto vedere, questa appunto chiudeva la rassegna stampa di questa mattina che naturalmente tornerà domani mattina puntuale alle 7.30, grazie per essere stati con noi, questa sera naturalmente occhio alla notizia alle 20.30 e poi durante la giornata seguitici sul nostro sito web, sulla nostra pagina Facebook per avere gli aggiornamenti minuto per minuto sulle notizie. Grazie, buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.